Sulla nostra terra noi possiamo amare in realtà solo col tormento e solo per mezzo del tormento. Dostoievski. Vi sono momenti in cui mi pongo domande e a volte non so rispondere. Domande sulla vita, sull'esistenza. Guardare dentro se stessi è difficile. Immaginate un viaggio dentro l'anima. Un viaggio faticoso in cui l'introspezione è tormento e disagio. Quale sarà la meta del viaggio in terrore? E la raggiungeremo mai? Ogni giorno cerco di partire, ma esito, sono dubbioso, ho paura. Paura sì, paura di mettermi a nudo, di dire a me stesso la verità. Rimorsi, rimpianti, occasioni perdute. Quante volte mi sono chiesto se l'esito della mia vita potesse cambiare in base a scelte diverse. Ci ritroviamo al mondo senza saperne, non per nostra volontà. E dobbiamo capire il senso della nostra esistenza. Le scelte della vita e la libertà ci obbliga ad interpretare la realtà. Freneticamente viviamo ogni giorno, apprezziamo cose vuote, prive di valori. Azzeriamo noi stessi in nome del nulla, lottiamo senza ideali e combattiamo battaglie quotidiane senza mai vittorie. Nasciamo liberi, ma diventiamo schiavi. Schiavi di noi stessi, delle nostre abitudini, alla costante ricerca del consenso altrui, dimenticandoci la ragione dell'essere. Il viaggio non può cominciare in queste condizioni. Il nostro bagaglio è troppo pesante. Ho provato ad alleggerirlo e sono partito. Ho cominciato gettando il telefono. Un sacco di oggetti inutili. Ed ho avvertito immediatamente un grande beneficio. Le mie mani, libera. La sensazione di essermi ripreso la vita è di non essere preda del futile. Ho subito incontrato un amico e abbiamo parlato. Non ci siamo scambiati messaggi. Abbiamo parlato. Può sembrare strano, ma abbiamo parlato di passato, di presente, di futuro, di quotidianità, evitando la ricerca del nullo. Ho lasciato l'amico con un abbraccio e sono ripartito. Ho incontrato una donna e abbiamo parlato. Non ci siamo scambiati messaggi. Abbiamo parlato di presente e di futuro. Perché a lei non è permesso avere un passato. Abbiamo condiviso rispetto ed un sorriso. Ho lasciato la donna con un abbraccio e sono ripartito. Ho incontrato un povero e abbiamo parlato. Non poteva mandarmi messaggi. Abbiamo parlato del suo passato e del presente perché forse lui non ha un futuro. Lui ha blogato a lottare per sopravvivere. Ho guardato i suoi occhi senza speranza. Ho abbracciato il povero e sono ripartito. Ho incontrato un bambino e abbiamo parlato. Abbiamo parlato del suo futuro. Aveva gli occhi pieni di speranza e diceva di volere un mondo che meriti di essere vissuto. Ho abbracciato il bambino e ho sperato con lui. Sono stanco. Ma ho incontrato un uomo. Ho parlato. Non mi ascoltava. Mandava messaggi. Si vantava delle proprie futili e inutili cose. Delle proprie conquiste e dei lussi sfrenati. Non l'ho abbracciato.